Buongiorno pilota o buonasera pilota, benvenuto a un nuovo Aircafè. Aircafè è la prima e unica rivista al mondo secondo me che parla di simulazione di volo aeronautica in generale nel tempo della degustazione di un caffè, come se fossimo in un bar, diciamo così, virtuale dove parliamo di cose aeronautiche che ci garbano a noi e nel tempo appunto di scambiarci un po' di idee. Quindi è bene che per le cose che tratto mi lasci sempre un commento qui sotto in modo che possiamo parlarne un pochino insieme. Allora di cosa parliamo oggi? Parliamo del è vero che la simulazione di volo è una cosa per pochi, cioè è un argomento di nicchia, è qualcosa? Secondo me no e vedremo dopo perché. Ma prima di parlare di questo voglio dire alcune cose. La prima, per quanto riguarda gli utenti di CS, sappi che è uscito proprio poche ore fa un aggiornamento per il targeting pod dell'F16 che ci fa presagire che presto ci saranno finalmente i nuovi Maverick appunto per questo bellissimo aereo. Quindi ne parleremo e ne parlerò quindi più avanti e casomai con un focus ad hoc. Poi il 18 come sai esce Flight Simulator 2020. Allora il 18 alle ore 21 ti farò una diretta sul mio canale Twitch, trovi il link in descrizione qui sotto, proprio per fare una sorta di unboxing e per orientarci per quello che è Flight Simulator 2020 e questo insomma ti può anche venire comodo per eventuali acquisti di Flight Simulator 2020 oppure no e poi soprattutto mi permetterà di interagire per dire cos'è che mi piace, cosa non mi piace, se le cose che abbiamo visto nei vari video che girano per la rete in questi giorni sono veritiere oppure no, ma soprattutto vedere come regge col mio hardware. Quindi andiamo un po' a vedere come funziona questo Flight Simulator 2020. Quindi ti do di nuovo appuntamento per le 21 del 18 agosto proprio per vederlo insieme sul canale Twitch. Allora, ultima cosa che stavo per dimenticare, gli abbonati a questo canale. In questi giorni come sai sono in vacanza e sono con i telefonini e basta, non mi sono portato dietro il computer. Lo vedi anche dalle miniature che sono diciamo un pochino più scarne, dalle cose che scrivo in descrizione sotto i video, che sono diciamo così un pochino più leggere. Questo perché appunto col telefonino faccio tutto. Il problema è che col telefonino mi sono accorto perché in questi giorni non riesco a vedere i nomi dei nuovi abbonati, quindi mi perdoneranno i nuovi abbonati, ma saranno menzionati quindi con tutti i crismi appena appunto ritorno a casa, quindi già il 18, anzi prima. Comunque parliamo appunto dell'argomento di oggi, dell'argomento da caffetteria di oggi, aeronautica, caffetteria aeronautica, ma la simulazione di volo è una cosa per pochi, è una cosa che in Italia va poco. Allora io mi sono fatto quattro idee che adesso ti vengo a dire direttamente qua, quattro idee al riguardo di cui pensavo in questi giorni sotto l'ombrellone. Sono queste un po' le idee. La prima, allora, tu sai che ci sono case che producono joystick periferiche eccetera eccetera e le vendono anche in Italia. Amazon ha proprio tutta un filone di queste periferiche per il volo. Se non ci fosse mercato, io credo che Amazon Italia piuttosto che i vari, diciamo così, negozi fisici non le terrebbero, no? Perché il gioco non varrebbe la candela e invece, e invece ci sono, vengono venduti, anzi molti di voi mi fanno un sacco di domande proprio qui sul canale su quale sia il joystick o meno da acquistare. Avevo fatto un video a riguardo qualche giorno fa, non riesco a mettertelo qui in descrizione, però sappi che se vai nel canale lo trovi. Poi altra considerazione che ho fatto è che il volo, a differenza di una trentina di anni fa, era una cosa a pannaggio per pochi. In realtà oggi noi ci spostiamo molto con gli aerei, tu stesso avrai preso più di una volta un volo di linea per arrivare in qualche località, anche per risparmiare un pochino di tempo. Quindi che cosa succede? Che a molti può venire la curiosità, l'idea di dire ma come si piloterà un aereo? E quindi si cominciano a fare ricerche e poi casomai si riesce a capire che è possibile, anche con pochi euro, fare un volo dal deporto molto molto semplice, oppure buttarsi sulla simulazione, perché casomai sono quei sogni reconditi che noi abbiamo fin da giovani, fin da piccoli, e che in un certo senso si immaterializzano. C'è chi può volare veramente e chi può invece buttarsi sulla simulazione di volo, perché fondamentalmente costa meno, ma ti dà sensazioni tutto sommato abbastanza simili. Anche se vabbè, poi qui bisognerebbe parlarne anche ore. Quindi molta gente si avvicina ai simulatori di volo proprio per questo motivo, per curiosità. Alcuni anche per vincere le proprie paure di volare. Uno vede come funzionano le cose e quindi casomai si avvicina. Poi c'è un fatto, il terzo fatto, di cui io volevo parlarti, che è che molti ragazzi, anche giovani, si avvicinano alla simulazione di volo e se inizialmente sono presi, diciamo, dalla grafica, ad esempio, di Fly Simulator 2020, che uscirà fra qualche giorno, poi si rendono conto che in realtà, come dico sempre io, questo non è un videogioco, ma è un vero e proprio simulatore, e cominciano a appassionarsi. Io ho visto in questi anni, anche volando sui VAU piuttosto che VATSIM, ragazzi di 13-14 anni, appassionarsi anche soltanto a fare i controllori di volo. Quindi il fatto di avere un videogioco, anche se non è un videogioco, tra le mani porta poi a fare uno scatto, uno scatto avanti, che per alcuni può essere anche uno scatto difficile da fare, in quanto la curva di apprendimento di un simulatore di volo è senza dubbio molto più lunga rispetto a un qualsiasi videogioco, però comunque, se ti prende la passione, cominciano questi ragazzi, anche giovani, a studiare e alcuni, come qualcuno che mi è già successo in questi anni, passa poi da una situazione di videogioco a situazioni reali. Molti ragazzini, che all'epoca erano ragazzini, con cui avevo a che fare, con cui avevo volato in questi anni, poi sono diventati piloti nella realtà, e questo mi ha sempre fatto molto molto piacere. Ultima considerazione, ma secondo me la più importante, che è un po' legata alla prima, di cui avevo parlato, è questa. Allora, pensa quello che è successo e quello che vediamo in questi giorni. Quanti nuovi arrivano su questo canale, appunto, incuriositi del Fly Simulator 2020. Allora, dietro a Fly Simulator 2020 c'è una piccola azienda, piccola, a Sobo, che però fa capo Microsoft. Microsoft, come avete visto, ha speso parecchi, parecchi soldi per quanto riguarda lo sviluppo e ricerca verso Fly Simulator 2020. Ora, pensi che tutto questo investimento che hanno fatto non sia supportato da uno studio di mercato bello grosso, soprattutto per una società come Microsoft, che detiene, diciamo, quasi il potere, insomma, dei sistemi operativi nel mondo. Quindi, se hanno deciso di continuare lo sviluppo del Fly Simulator, è proprio perché sanno che c'è, passami il termine, trippa per gatti. Quindi, togliamoci veramente l'idea dalla testa che la simulazione di volo sia un argomento, sia qualcosa di nicchia. Perché, a mio avviso, così non è. Anzi, io prevedo che nei prossimi anni, ma anche nei prossimi mesi, l'argomento simulazione di volo verrà considerato sempre di più. Perché, in base a come andrà a Fly Simulator veramente, vedrete che avremo un interesse, per quanto riguarda, diciamo così, tutta la community, sempre più acceso, sempre più elevato. Quindi, sappi che l'argomento è un argomento che prenderà sempre più piede. Ovviamente, dovrei dire, Fortnite, tanto per dirne uno, deterrà molto di più l'audience rispetto a un Fly Simulator. Però, 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 vedremo, vedremo. Quindi, dimmi anche tu cosa ne pensi di questo argomento. E, diciamo così, alcuni di voi stoggeranno un pochino il naso perché, perché vorrebbero che l'argomento rimanesse un pochino più di nicchia, ma secondo me così non sarà. Quindi, aspetto il tuo commento qui sotto riguardo all'argomento che ho trattato adesso e direi che, se il video ti è piaciuto, condividilo, metti un mi piace, iscriviti al canale e sappi che è possibile supportare questo canale, attraverso i tuoi acquisti su Amazon, che a te non porteranno assolutamente niente, ma mi darà una piccola cifra che mi permetterà di rimanere sempre aggiornato con tutte le riuscite e quindi di parlarne direttamente con te. Bene, anche oggi, anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Lire. Ciao!